ciao a te bentornato su persona 3 reload dunque abbiamo completato il tartarus quindi questo blocco del tartarus quindi non tanto da fare qua no ti prego non fatemi combattere mai più secondo soltanto calendario si tra quattro giorni c'è un'altra luna piena e saranno saranno bei cazzo ok a prendere qualche persona degno di questo sì mi apre qualche persona degna di questo nome ok intanto c'è il mothman non è male sati neanche madonna need go ok sono a livello 34 potrei fare il re frost ma gia 31 potentissimo allora è bufala vero quindi do anche il maguro e il mazio lucia l'ultimo però il re frost il tuo lini amico e mio amico congellerò chi ti sbarra la strada ok 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 il ma bufala vulnerabilità grazie maruccaia questo mi piace però potenza congelamento questo ovviamente vulnerabilità ghiaccio ma sai che quasi quasi accettiamo mi da potenzia perforazione chi se ne frega ok ho preso il re frost va bene così il numero di persona è ottenuto e continua a crescere la persona rappresenta il cuore e l'anima di qualcuno e la loro forza riflette l'impegno con cui cerchiamo di violarci ogni giorno non piacere assisto capito dammi qualcosa il potere interiore aumenta gradualmente potenzia debolezza aumenta il danno colpendo le debolezze di un nemico interessanti le caratteristiche di marcott vengono potenziali in base alla percentuale di persone registrata nel grimorio no andiamo via ok posso tornare nella alla vita di tutti i giorni torniamo indietro sì sì voglio fermarmi questa notte ora e per sempre andiamo qui per oggi martedì 8 agosto è il telefono squilla ho ricevuto il massaggio indovido chi si annoia niente scuola e niente allenamento al momento neanche neanche se mi paghi giorno si 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 abbuffiamoci ok no non abbuffiamoci ma maia non ci sta proprio c'è buntici e c'è anche nozomi ovviamente non ci sta la scuola si che sto facendo affidità sociali il re gourmet è a 8 bugici invece a 6 ancora no 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 andiamo direttamente dai nonnini ce l'ho lo ierofante e non ho lo ierofante però due imperatori maledetto io senza rivelluto dammi lo ierofante ok fondiamo la persona intanto vediamo se magari fondendo qualcuno 1 c'è un'altra cosa facendo c'è un'altra cosa no ok quindi evochiamo manualmente un ierofante vediamo chi prende a tanto c'è soldissimi sto facendo wow torniamo uscisa si andiamo via donna presta a farci visita ok nonnini problemi hai tu tutti pensano che i fantasmi e la sindrome apatica sono processore ma personalmente mi fanno invidia ti ritorne vuoi un po' i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri la nostra classe operaia viene spremuta fino all'osso e prosciugata se devo comunque prosciugarmi e morire tanto vale prendersi la sindrome apatica un giorno avrei un lavoro come il mio e arriverai alla stessa conclusione un secondo questo mi sembra abbastanza appuntito per rompermi le palle madonna ok passiamo alla giornata con i nonnini ma ok ciao ciao no signora perché sta piangendo non deve piangere che è successo dimmi che devo picchiare piangere piangere dalla felicità oddio non è che si direbbe tantissimo eh ok tutti i diplomati della classe di mio figlio si sono riuniti wow stanno raccogliendo firme per salvare l'albero di cacchi no bellini è fantastico fantastico grandi ragazzi eh questo è lo stesso per i nostri figli molti di loro si sono riuniti per quello ci sono tanti anni ma ancora ricordano gioia è una bellissima cosa hanno dato il loro precioso tempo per il nostro figlio non so cosa dire sono molto grafica gioia mia abbracciami ma veramente no veramente no hanno fatto tutto loro eppure io mi prenderei quasi il merito no una stellina ma non ho fatto niente vabbè grazie grazie un samurai contemporaneo un samurai contemporaneo poi ero fante livello 7 assolutamente mai un giorno ci berremo qualcosa io e te dovremo accontentarci di questo di cosa gocce di cia semplicemente semplicemente ci accontentiamo delle gocce di cielo non mi capisco gocce di cielo sarebbe la pioggia ho salutato la coppia di anziani che sono teneri che si dice cosa dopo domani ci sarà la luna piena sono troppo fomentato spacchiamo la faccia alle ombre mi pare giustissimo te che cosa vuoi fare il presidente Tanaka non puoi chiedermi di guardare un ah un'altra volta ciccia ho il presidente Tanaka da fare salire almeno credo ma che sto facendo ma si presidente Tanaka sto arrivando prima ce l'ho il diavolo ovviamente no andiamo a prendere sto diavolo che bellini tutti e due siete apatici tutti e due al punto giusto è un amore completo ok si sono al corrente che tra due giorni ci sarà la luna piena ok ovviamente si si i soldi qui stanno andando sono esattamente come sono entrati però andiamo un attimino al negozio dell'antiquariato si ho capito va bravissima torno a un modello base quindi si diventerà un gran bel petto di equipaggiamento ok andiamo all'equivaggiamento il rame potenzio e vento vertigini e attricità nob queste sono interessantissime eh esiste vertigini esiste vertigini lama invece è bellissima questa contrattacco la voglio unisorgente wow ma ci sono delle armi bellissime chance critico alta ecco questa te la prendo ciccia dammene una peccato che ne posso fare soltanto una alla volta ah no perché di la manichille ne avevo soltanto una vabbè ci sta tutte le statistiche più precisione 99 questa la prende sempre spada che cambia l'affinità in luce per Makoto ma è scarsissima per favore stai zitto ehm no va bene dai teniamoci questa lasciamo il negozio andiamo a vendere un pochino di roba che ho preso prima ah vero è vero 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 lo smeraldo le ricompense per la cattura per il ritrovamento delle persone scomparse scomparse cambio potenziato cambio potenziato ok grazie mille per niente 54.000 teni lì tutti no per gli ucari c'è l'arco potente l'equipaggiamento e infatti ti do la chance del critico alta anche se la percentuale di colpire è più bassa ma va bene così per mizuno ti do la sciabola gelida ok ok una maglia muscolosa perché vabbè resiste malia va bene lo stesso gambali nulla da fare questo non mi dà proprio nullissimo per ricordi va bene così ok il presidente Tanaka è al set quindi tra pochissimo salirà lotto ok ed anche gratis il presidente Tanaka è un uomo molto avaro ha detto che la gente giudica sempre per dar le apparenze e che costretta a spendere tanti soldi per il proprio aspetto ok capisco dunque per oggi è una storia fresca di stampa wow che incontro interessante hai fatto ho qualche credo di avere qualche un po' di intuizione su cosa ti abbia detto tipo baffan ah era quotata a 10 milioni alla SNAI perchè secondo lei tre stelline non che ne vada fiero ma non mi interessa cosa penso di clienti non è vero non è vero sono il presidente di un'azienda che vende prodotti fasulli ma poi mi diceva che ha perduto il suo lavoro di part-time e sarebbe studiare per diventare un prosecuto gioia interessante ha voglia di punire i businessmen come me per prendere le regole ah quindi non era esattamente un grazie mazzi eh ha detto che ero un esempio di un modello negativo anche se non ero nemmeno magari sto overreacting ma cosa se si diventa un prosecuto pubblico e mi mette dietro le bar secondo me farebbe bene credo questo significa che non potrei dare te i miei consigli eh tranquillo ciccio perchè continuerei almeno almeno in persona 4 presidente Tanaka sembra combattuto sento di comprenderlo un po' meglio adesso non è vero uomo da affari livello 8 grande Tanaka ti voglio al 10 voglio che gli azionisti lo sappiano voglio che gli azionisti lo sappiano quanto pare i ragazzi oggi non sono così ingenui si è fatto tardi e sono tornato al dormitorio ok mercoledì 5 agosto ma è ancora qui no è ancora vacanza no cicci ok ok mamoru ayase c'è anche maiko c'è anche nozomi allora dovrei alzare maiko ma i vecchietti sono a 7 maiko invece è al 7 anche però maiko se non ricordo male ha bisogno di tempo per alzarsi si maledizionissima ok ok santuario andiamo a giocare con maiko ce l'ho la persona dell'appeso dimmi di si ma ce l'ho ma tu che vuoi che ci fai qua ho uno scoop tutti questi incidenti sono iniziati a causa della maledizione di un dio del santuario ah ok ridicolo vero? immagino e non sei rivista si occupa di questo siamo solo in una pubblicazione di terza categoria ma un giorno scriverò un articolo che ci farà diventare i numeri uno però il mio capo mi dice di non perdere tempo pensa che sia impossibile il tuo capo mi sa tanto che è un deficiente visto che il sovrannaturale c'entra abbastanza ok maiko livello 7 ora il corso è privato ma non ci vado vuoi giocare con me addirittura eh si è a 7 ma ha bisogno di tempo e noi glielo diamo il tempo ma maicuccia la prossima volta potremmo ehi tu cosa vuoi fare sento che il mio legame con maiko si rafforza passando del tempo con lei il nostro rapporto si rafforzerà presto ok torniamo al dormitorio domani ci sarà la luna piena sono un po nervoso in effetti ma non mi preoccupo troppo in questa situazione sei sempre affidabile addirittura grazie per la responsabilità ok non c'è nessuno c'è chico che vuole fare attività sociali ma polonia polonia si andiamo a polonia andiamo un pochino a giocare videogiochi visto che ok you are the answer da il sapere sapere che ovviamente non aumenterà se pareva ok giovedì 8 quando ricomincia sta scuola però meglio restare a casa e conservare le energie oggi c'è la luna piena avrò altre risposte e di nuovo una notte di luna piena novità yamagishi novità yamagishi benissimo rilevo un'ombra stanotte come previsto ora si che si ragiona si trova nei pressi delle case disabitate nella parte nord di Iwatodai ma c'è qualcosa di strano il segnale proviene da sottoterra a quasi 10 metri wow qualche seminterrato potrebbe anche essere secondo i registi del molo settentrionale lì non ci sono edifici di quel tipo ma in passato c'era una struttura sottoterra utilizzata dai militari ehm a quanto pare ok esatto i dati sono vecchi di 10 anni non dovrebbe... qualcuno sottoterra qualcuno non dovrebbe aggiornarli quindi come esattamente procedere? come vogliamo procedere di preciso? che ne so il nemico è sottoterra l'ho deciso io non c'è modo di saperlo finchè non saremo sul posto vecchi resti della guerra quanto pare al momento la situazione è ancora poco chiara ecco perchè attenderemo di arrivare lì prima di decidere chi schierare aspetta capito ok andiamo e ci spostiamo direttamente nel covo del nemico porto a nord di Ivatodai ingresso della struttura sotterranea non sapevo ci fosse un posto simile così vicino a noi il target dovrebbe essere qui ben fatto ben fatto chi è? chi sono? Lucia non li ha percepiti fino a un secondo fa quindi questi qua hanno il potere di nascondersi dalla persona di Fuka è un piacere incontrarvi finalmente di persona mio nome è Takaya questo è Jin io sono Takaya questo è Jin alcuni ci conoscono come Strega Strega è il nome del loro gruppo ma manca qualcuno è vero? noi abbiamo trovato un occhio sulle vostre attività veniamo al dunque ed è un po' che teniamo d'occhio le vostre attività pare che combattiate per una giusta causa a salvare il mondo purtroppo noi siamo qui stanotte per porre fine a tutto questo cosa hai detto? hai raggiunto molti nuovi allie in così corto tempo non ho dubbio perché questa terra si tratta con sin ok te chi sei? fammi capire il tartaro si erge maestoso come sempre se pare che questi qua glorifichino il tartaro mentre noi vogliamo abbatterlo sai voi sapete? ma perché diavolo volete fermarci? non è mica così difficile da capire se le ombre e l'ora buia scomparissero potremmo perdere il nostro potere e questo non possiamo permetterlo capite? potere? state dicendo che anche voi siete evocatori? volete davvero perdere le vostre abilità? non tutti possono evocare le persone l'ora buia è una frontiera esplorabile solo da noi così come le torre della rovina in effetti brava brava Iukari non sappiamo cosa accadrà se non facciamo qualcosa è giusto una catastrofe è causata dalle ombre e che importanza ha? ma figurati capito ogni lunedì i disastri sempre esistiranno e gli uomini sempre destruiranno inoltre di quello che le ombre facendo inoltre nessuno può prevedere quali disgrazie si abbatteranno su chi ma soprattutto è ora che accettiate la verità mi sarebbe vero ma non è vero allora senso di soddisfazione che vi dono all'ora buia è vero c'ho la persona è vero sono potentissimo ma il mondo sta quasi il mondo rischia di collassare quindi ti sbagli pensi che ne sia felice? non è così? beh almeno ce l'avrei una patetica ordinaria vita tutto questo a me non piace affatto ma non è vero ma non è vero degli idioti come voi non riusciremmo mai a fermarci ancora Kiko ci batti a denari cos'è detto? divertitevi là dentro oh merdola ci hanno chiuso dentro niente a panico piuttosto che sprecare risorse se consiglio è di occuparci dell'ombra quanto prima giusto se perdiamo la calma faremo solo il loro gioco l'ombra si muove si accorta di noi bene continuiamoci sul nostro obiettivo iniziale dopo aver vinto cercheremo una via di uscita tutti voi preparatevi alla battaglia perfetto ok c'è stato un piccolo incidente ma ora concettiamoci sulla missione piccolo? niente avverto la presenza del bersaglio dietro quella porta possiamo andare appena sei pronto ok sono tutti al ronna ronna yukari perchè saltelli? se stai ferma così dove stai ok a chi? yukari che problemi hai? si quali sono i tu qual è il nome dei tuoi problemi? è continuo eh? se non è che si sta fermo boba ok a chi hiko no rimani in attesa d'accordo perchè voglio portare Mitsuru quindi timma il femminile stai ferma timma il femminile qual è la stato dell'obiettivo? sto rivelando il segnale del bersaglio da un da un luogo qui sotto ma sembra come se diversi segnali si sovrapponessero non riesco a capire chi diamine sarà mai state pronti a tutto oh 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 allora senza i pezzi grossi come Jumpei o Akiko mi sto concentrando di più sul sul controllo anche se è pezzo grosso comunque ci sta pur sempre Aigis vabbè cura destabilizzazione con Mitsuru e poi lo picchio male con Aigis anche se no va bene così su persona E e prendiamo il Red Frost 17 metri sotto terra wow percepisco il bersaglio a due blocchi di distanza è lento ma si dirige ai livelli inferiori inseguiamolo wow ok quindi questo veniva usato durante la guerra sembra cibo in scatola in senso è piena di tavoli e scatole ok scatole sono coperte di ragnatele c'è un diario vicino alla mano dello scheletro abbiamo lavorato fino a consumarci le dita nell'esperanza di proteggere il nostro paese e la mia famiglia abbiamo fallito anche se la tentazione di cedere la dispersione è forte non possiamo permetterci questo lusso il cielo sarà anche cremisi ma non demorderemo ok questo scheletro è una persona oh merdola si vedo delle luci si vedo delle luci e ok ha capito però ci stava uno scheletro nessuno potrebbero appartenere al bersaglio teniamo gli occhi aperti ok c'è qualcosa che luccica una perlina rigenerante dove sono tutti questi documenti nella speranza che questo messaggio raggiunga i miei cari ho sigillato questo diario per proteggerlo noi in pochi superstiti abbiamo fatto in modo di completare il nostro obiettivo molti dei nostri compagni non sapranno mai del nostro successo prego che per la pace dei loro spiriti dopo questo caos a mia madre e mia moglie e i miei figli vi prego non pensate che io vi abbia abbandonati devo dare la vita per assicurare il vostro futuro allora l'avrò fatto con gioia onorate la mia memoria vivendo qui c'è una sorta di grosso disco non ho mai visto così molti erano tutti designati per uccidere le persone in effetti una donna che si questo l'ho già letto si vabbè ho capito gioia capisco che magari non li hai trovati ma forse non sarà colpa tua ma sarà qualcosa che loro possono fare sarà una loro capacità wow piano riuscite lungo il tunnel presto seguiamolo ho fatto queste cose io continuo a romperle però non c'è mai nulla il prestigio si è fermato aspetta un giro aspetta un giro ok l'avvento del crepuscolo si tutto questo non mi piace ok ok sarà ovviamente lì oh porca di quella sei tu? immagino di sì immagino di sì che non ho salvato ok sì sono pronto è questa la fonte dei segni di ruote pare che l'ombra pare che l'ombra stia usando il carro armato come armatura preparatevi arriva uuuu è l'arcana è la giustizia no è il chariot cosa? questo arcana è la giustizia no aspetta è il carro cosa? vedo un solo nemico ma ne percepisco due mai visto un'ombra del genere prima d'ora quindi a quanto pare sono i due arcani giustizia e carro in uno ok innanzitutto aumentiamo la difesa di tutti ti prego riduciamo la precisione del nemico perciò non ho nulla i mali sulle statistiche nob vabbè picchialo au e resisti non ho capito che sta riducendo la difesa di un nemico per sapere perfetto nob au au ma le verticine non si rialza giusto giusto lei ok bufala resisti pure al bufala? nob ho bisogno di un'analisi completa ed è resistente a tutto oh porcaccia ecco il piano quello di pregare ma proprio di mira yukari? giusto giusto credo che sia il caso di proteggere yukari media eh brava almeno te eh brava almeno te oh garula? resiste e questo quando lo picchio male che lo malo? no non puoi au difesa ristabilita cioè mi stai dicendo che il danno per yukari in questa situazione in questa situazione vattene teologia vai sei l'ormone 185 almeno io ho fatto qualcosina separazione? si è divisa in due? ora capisco la torretta è la giustizia e l'altra ombra è il carro ora capisco la torretta è la giustizia e l'altra ombra è il carro ok tu sei debole si 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 c'è perfetto una è debole alla magia l'altra è debole al al fisico ok stai qui impicchiata mancato ma meno male vai oracolizzami tutto la vita gliava un uomo benissimo no no all'altro ok ma ragion eh no dai devi fare una teorgia potentissima su un carro che purtroppo sono specializzati in magia quel cufo il magia wow assolutamente ma ammazzalo male assolutamente e la giustizia è fuori ripara? come ripara? sembra che il giustizio può salvare l'un altro e dovresti vederli al stesso momento no mancato meno male ok fratelli jack si mi piaci buttatevi buttatevi a terra entrambi non ci riuscirò mai ok maguru è un pioggia di frecce upala rompilo rompilo no no ripara 300 però eh e di nuovo l'amore l'amore sembra di essere molto più difficile che ogni shadow ancora l'amore ha più resistenza da tutte le ombre incontrate fino ad ora e solo potessimo separarli con un attacco più forte e che cosa mi sarebbe ehm ma ragion no resiste frontside ok 46 e te sei fuori uso 12 12 au nope credo di avere ri bisogno di nuovo di jack frost per aumentare la difesa prima che questo qua mi picchi male media su tutti ai che se non può muoversi bufala si no bad cosa devo arrivare a yukari si papirapà si ho capito papirapà bufala di nuovo eh resisti però ho bisogno disperato di che che magari un si si alzi una teurgia di qualcuno di chiunque almeno male picchialo malissimo buonissimo riduciamogli la difesa au almeno di situation curati ah meno male che è optimal persona questo farà il ti sto caricando granata come la difesa ristabilita ciccio qua mi piace certo che mi apre meno male eh per me per il potere dell'amore picchialo male con la teurgia ti prego ciò è cosa è questo? ehm ahm 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 sepparazione che si separa ma il danno invece si è diviso equamente tra tutti e due Ok, uno è morto Teorgia Sei finito Care cosa? Uh, giustizia e carro Il livello 35 Trenne ovviamente Mitsuru 31 Questo è il Getsu E i I danni maggiori si avvicina alla luna piena Non me lo dici ora Grande Mitsuru Presidente Ci sono Abbiamo neutralizzato il bersaglio Tornate pure In realtà abbiamo un problema Ci siamo imbattuti in un contrattempo durante la missione Pare che fossero evocatori Evocatori Più di uno Sono apparsi all'improvviso durante l'ora buia Già sapevano di noi Hanno detto niente che potrebbe darci un indizio circa la loro identità Ora che ci prendi nomi Credo abbiano detto di chiamarsi strega Strega? Strega? Vedrò cosa riesco a scoprire Grazie Ho un'ultima cosa da segnalare Un'ultima cosa da segnalare Altri evocatori Altri evocatori eh Conosci qualcuno di loro ciccio? Sono comparsi nemici inaspettati E sembrano anche essere degli evocatori Ma anche questo messo siamo riusciti a sconfiggere le ombre Credo che ci saranno meno vittime per un po' Sono distrutto Non vedo l'ora di riposarmi un po' Venerdì 7 agosto Almeno due ombre E credo sia ora Oh Di salvare Che messaggi Ma per favore Mattina presto? Giorno? Posso fare qualcosa? Benissimo Meno due ombre Adesso ne restano soltanto quattro E spero di riuscire a scricchiarle malissimo Per oggi è tutto Appuntamento al prossimo video Ciao